Oggi è una di quelle giornate in cui il tempo sembra proprio non trovare pace. Le previsioni danno cielo nuvoloso alternato al rovesci di pioggia nel corso delle prossime due ore. In ogni caso, tutto ciò non sembra aver scoraggiato i sostenitori delle due squadre. Ha corsi in massa lo stadio per trascinare i giocatori in campo. Prepariamoci quindi ad assistere a un grande spettacolo. Non c'è che dire, la cornice di pubblico ci ha fatto entrare immediatamente in clima partita. Coriografie vibranti, bandiere colorate e cori cantati a squarcio a gola. Baselic! Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Baseli. Gol da Niga. Strefezza. Nessuna delle due squadre fino ad essere riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Lukman. Pallone interessante, in verticale. Cerca il dribbling in velocità. Raffaele Varane. Raffaele Varane. Da Cugna. Cutrone. Quindici minuti alla fine della prima frazione. Gioca con un pallone lungo. Riceve palla da dietro. E buona, si gioca! ha provato ad andare via in dribbling. Difensore molto attento. Scalvini. Palla a Pasalic. E' costretto a ricominciare. Zappacosta. Scamacca. Fate e Cori. Caltati a squarcio a gola. Basalic. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Baseli. Gol da Niga. Strefezza. Nessuna delle due squadre fino ad essere riuscita a superare il portiere avversario. Zero a zero. Luckman. Pallone interessante. In verticale. Cerca il dribbling in velocità. Raffaele Varane. Raffaele Varane. Da Cugna. Cutrone. Quindici minuti alla fine della prima frazione. Gioca con un pallone lungo. Riceve palla da dietro. E buona, si gioca! Scalvini. Ha provato ad andare via in dribbling. Difensore molto attento. Scalvini. Palla a Pasalic. È costretto a ricominciare. Zappacosta. Scamacca. Fate e Cori. Caltati a squarcio a gola. Pasalic. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Baselli. Goldaniga. Strefezza. Baselli. Nessuna delle due squadre fino ad essere riuscita a superare il portiere avversario. Zero a zero. Lukman. Pallone interessante. In verticale. Cerca il dribbling in velocità. Rafael Varane. Da Cugna. Cutrone. Quindici minuti alla fine della prima frazione. Gioca con un pallone lungo. Riceve palla da dietro. E buona. Si gioca. Ha provato ad andare via in dribbling. Difensore molto attento. Scalvini. Palla a Pasalic. È costretto a ricominciare. Zappacosta. Zappacosta. Scamacca. Pallone interessante. In verticale. Cerca il dribbling in velocità. Rafael Varane. da Cugna. Da Cugna. Cutrone. Quindici minuti alla fine della prima frazione. Gioca con un pallone lungo. Riceve palla da dietro. È buona. Si gioca. ha provato ad andare via in dribbling. Difensore molto attento. Scalvini. Palla a Pasalic. È costretto a ricominciare. Zappacosta. Scamacca. Ci prova con un pallone profondo. Passaggio intercettato. Estremo difensore. La caccia lunga. Fa male i calcoli. Il pallone non passa. L'idea del passaggio era giusta. Gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. L'arbitro dice basta. Manda tutti ad ascoltare.